E adesso, e adesso son cavoli. Allora, riepilogo della puntata precedente. Ieri è arrivata una mail da Make Music, cioè lo sviluppatore di Finale, che ci diceva in belle parole che la vita di Finale finisce qua. Allora, Finale, per chi non lo sapesse, è il, diciamo, se non il più importante, il più vecchio probabilmente, software di notazione musicale, cioè tutti quelli che scrivono musica su un computer lo fanno fondamentalmente con Finale o con altri due software che vedremo nel corso del video. Ma, insomma, è l'equivalente di Word per la scrittura musicale. Immaginate che domani Word o qualunque altro programma del genere, io non so neanche se esiste più, non uso tanti anni, ma, insomma, immaginatevi comunque che un domani venga lo sviluppatore di Word a dirvi guardate, Word non esiste più, quindi non verrà più sviluppato. Non viene più sviluppato per un software vuol dire la morte, perché un software non è la Divina Commedia o la terza di Beethoven, che quella è, quella deve rimanere. Un software, se non viene sviluppato, non viene aggiornato, non ha nessuna vita. Per cui tutti coloro che, come me, da tanti anni usano Finale, io lo uso da oltre 25 anni, per capirci, si trovano con un problema gigantesco, cioè che il software principale con cui lavorano ha deciso di mandarli a ranare. Ora, per quale ragione la cosa sia stata fatta? È un genere, ragioni economiche. Non può darsi che lo sviluppo di un software così complesso sia molto costoso in rapporto a quello che poi il software renda, la pirateria, tutto quello che volete. Che sia questa la ragione. Che sia un'altra, che siano arrivati gli alieni, non è che ci interessi poi più di tanto. Quello che ci interessa purtroppo è il risultato. Il risultato è che da oggi Finale non è più, non solo sviluppato, ma non è più possibile comprarlo. Anche se su questa cosa un amico mi ha dato che ha fatto un tentativo e in realtà si riusciva a comprarlo. Ma non avviano più aggiornamenti, non si potrà più utilizzare. Nel senso, su questo computer che sto usando adesso, il software è installato, è ovviamente regolarmente acquistato, con licenza e tutto, e quindi continuerà a funzionare. Ma per un altro anno ci sarà la possibilità di trasferire licenze, ma, dopodiché, se il computer mi dovesse cadere per terra, me lo dovesse rubare, me lo dovesse esplodere la casa, e io avesse necessità di installare il software su un altro computer, non potrò farlo. Ora, la cosa comporta due problemi principali. Il primo è quello di dover imparare un software nuovo. Le opzioni sono Sibelius, Odorico, ovviamente. Sì, ce ne sono anche delle altre opzioni, ma, insomma, fondamentalmente credo che il 90% di chi usa la finale se vuol girare a Sibelius, Odorico. Il problema di imparare un nuovo software da zero, dopo che hai usato per tanti, tanti anni un altro, è un problema non da poco. Perché significa, soprattutto, se uno ne fa un uso molto approfondito, molto serio, molto professionale, ha imparato, non so, shortcut, comandi, e così via, nel corso di anni, che adesso, per lui, sono un automatismo che va completamente a farsi benedire, ma implica proprio dover passare una quantità di tempo gigantesco per imparare a quel livello un nuovo software. Parliamo di mesi, comunque, nella migliore dell'ipotesi, non voglio dire di anni, ma sicuramente di mesi. In più, dopo tanti anni di utilizzo di un certo software, avevi anche imparato, tra virgolette, come ragiona quel software, no? Tant'è vero che io, su tanti procedimenti, tipo l'estrazione delle parti, le estraevo in una maniera diversa dal modo tradizionale. Mi ero, tra virgolette, non so se ho inventato, ma comunque avevo intuito, ma magari lo fa qualcun altro, un mio metodo che nel mio flusso di lavoro funzionava benissimo e quindi così facevo. Per questo dico, impari proprio a capire come funziona, come ragiona, con tutte le virgolette del caso, quel software. Quindi, imparare un nuovo software vuol dire anche imparare come ragiona quel software. Quindi questo sarà il primo problema gigantesco ed è un problema non facilmente superabile perché questa è una cosa che va fatta, altrimenti smettiamo di scrivere musica sul computer e ovviamente per chi fa il musicista, il compositore, l'arrangiatore, per chi ha una casa editrice musicale o per chi ne faccia un qualunque uso professionale e faccia concerti, capite che è un disastro, altrimenti. Quindi, tralasciamo il fatto di avere imparare un nuovo software. Il problema principale è cosa faremo con tutti i file vecchi. Io ho oltre 80.000 file di finale. Cosa comporta questa cosa? Questa cosa comporta che se domani, appunto, non avessi più la possibilità di installare il computer non potrò più aprire quei file. In nessuna maniera. Sì, potrei cercare qualcuno, qualche amico, qualche collega che è ancora finale, ma insomma, capite che è un grosso problema. Sì, perché finale, in questa mail in cui dicono ah, che bello, tanti anni insieme, sei molto americano, ma alla fin fine ti stanno lasciando in mezzo a una strada. Alla fin fine loro dicono consigliamo l'immigrazione verso Dorico, che è molto un altro software di notazione musicale per il quale facciamo questo super sconto per chi migrerà da Finale a Dorico e va bene. Ma Dorico non leggerà i file di finale. Per cui i file di finale resteranno bloccati all'utilizzo di finale. In più considerate un altro problema, cioè quello di non poter più aggiornare il sistema operativo sul computer che utilizza Finale. Perché nel momento in cui dovessi passare al nuovo OS, ma insomma, credo che per chi usa il mondo Windows sia la stessa cosa, il software non funziona più. e quindi poi di fare il downgrade, un disastro, un disastro. Mi ha detto una tragedia, le tragedie non sono queste, ma insomma, una gran seccatura sì, ecco. Dicevo, il problema dei file vecchi, che ne facciamo dei file vecchi? Cosa succederà? Che quei file non saranno leggibili, se non trasformati prima nel formato XML e poi importati nel nuovo software in questo formato. Ma questa cosa sembra una soluzione semplicemente a chi non ha mai provato a farlo, questo procedimento. Perché un file, diciamo, esportato da Finale in XML e importato ad esempio in Sibelius in XML e poi salvato come file proprietario di Sibelius, gli devi fare mille modifiche. Cioè, mille sistemazioni. Sì, forse le note sono giuste, ma non ci giuro neanche sempre. Io ho fatto diverse volte lo spostamento che è sempre stato un grosso problema. Ma solo sistemare... Mettiamo che sia solo sistemare il titolo, banalmente, che è qui è spostato e aveva messo qui. Teniamo questa sciocchezza. Su 80.000 file che ho io, capite bene che è un problema enorme. Un problema di tempo, un problema di risorse. Ok, il lavoro devo farlo io o devo farlo fare a qualcuno. In ogni caso, è un lavoro che costerà uno sproposito. In più, con questo problema di compatibilità, che è l'XML, sì, una volta che lo... Quello esporti, non riporti mai come era bello, pulito, preciso. Perché sapete, se uno mette delle parti, usa delle parti magari per fare musica live o per registrazioni da fare al volo, insomma, alla fin fine, se è poi il titolo invece che spostato così, un po' spostato così, anche se è il mezzo forte che va un po' sulla gambetta della nota, alla fin fine, chi se ne frega, non è quello che non ti fa leggere la musica. Ma se uno pubblica questa roba, la stampa, è chiaro che anche dal punto di vista estetico deve essere perfetto. Non è ammissibile che uno compri una cosa che sia stampata o che sia in pdf e sia tutto storto, fatta male. È un'idea di... di pressapochismo, di dilettantismo. inaccettabile nel momento in cui stai comprando a pagamento. Accettabile se te le trovi davanti per un concerto o per una registrazione, insomma, chi se ne frega. È inaccettabile se questa cosa la stai comprando, pensate a un teatro che dovessi mettere sui legii sui legii delle orchestrali, delle parti brutte, storte, insomma. Non è serio, insomma. Quindi le opzioni sono... saranno e per saranno vuol dire non dico necessariamente oggi ma nell'arco delle prossime settimane massimo qualche mese perché ribadisco entro un anno cioè entro agosto 25 non sarà più possibile comunque attivare licenze cioè al finale chi ce l'avrà il suo computer ce l'avrà e potrà continuare a usarlo finché quel computer funzionerà. Dopodiché, ripeto, se quel computer dovesse esplodere non potrà più utilizzare il software. Le opzioni quindi come detto sono due Sibelius o Dorico Sibelius è il grande antagonista da sempre di finale Sibelius e finale come Fender e Gibson Guelfi e Ghibellini Callas Tebaldi Coppi e Bartali insomma tutte quelle cose in cui dobbiamo per forza dividerci ci siamo sempre divisi anche in questo e quindi generalmente Sibelius aveva e ha ancora l'ho utilizzato brevemente l'anno scorso una maggior semplicità di funzionamento però sicuramente non riesce a fare non riusciva almeno a fare la qualità di cose che era in grado di fare di fare finale quindi Sibelius è il principale il principale antagonista che tra l'altro aveva avuto un'enorme diffusione dopo che era stato inglobato in Pro Tools quindi tutti quelli che prendevano Pro Tools avevano in automatico Sibelius cosa che invece Finale non ha mai fatto non si è mai apparentato con una Do o con un software un importante software del mondo del mondo musicale e forse questo è stato un grosso un grosso limite tra l'altro voglio dire quelli più addentro la cosa dicono che la faccenda fosse nell'aria già da qualche tempo io che non bazzico molto blog e forum di questo argomento per me è stato come dire una doccia fredda ma potrebbe essere stato un mio un mio limite ma indipendentemente da questo perché sia stato per come per quando da quanto tempo oggi è situazione questa qua e va affrontata questa situazione per cui Sibelius diciamo potrebbe essere la prima versione come dire la prima opzione plausibile verso cui orientarsi la seconda è Dorico Finale sta favorendo la migrazione a Dorico che è integrato con Cubase e quindi anche Dorico che è un software infinitamente più giovane di Finale però avendo l'integrazione con Cubase è chiaro insomma che ha avuto una grande diffusione per cui quindi Finale favorisce la migrazione a Dorico con uno sconto importante sul prezzo di acquisto e dice ok andate lì che loro sono bravi e sono belli e continueranno idealmente il lavoro che ha fatto a Finale insomma a parte ripeto che tutte le belle parole non tolgono il fatto che ci sarà un nuovo software da imparare e soprattutto ci saranno da da capire chi aprirà i file che abbiamo di Finale fatti negli ultimi nel mio caso oltre 25 anni al momento a oggi nessuno poi non so quello che non ho capito francamente è perché invece chiudere baracchi e burettini non hanno ceduto lo sfruttamento del software a un'altra casa ecco un altro sviluppatore questa è la cosa che non capisco cioè che per un'azienda possa essere non più economico un certo tipo di sviluppo questa cosa la capisco non capisco perché non hai ceduto questo software a un'altra azienda magari appunto che potesse fare un apparentamento con con un sequencer o con una DO o con chiamatelo come volete tipo appunto come è stato fatto con Pro Tools o con Cubase anche meno importante ma insomma che poi un apparentamento con un altro software molto diffuso inevitabilmente porta alla diffusione anche del tuo software e nel caso di Finale secondo me stiamo parlando di milioni di persone che sono Finale nel mondo comunque insomma tanti tanti forse ho sparato milioni forse un numero eccessivo ma parliamo comunque di centinaia di miliardi sicuramente comunque tante tante persone che usano questo software quindi non è un non è un problema da poco è una piccola nel mondo di notazione musicale è una rivoluzione copernicana e e non necessariamente positiva come era stata quella quella appunto di Copernico per cui mettiamoci nell'ottica a innanzitutto di dover imparare un nuovo software e di dover capire come gestire questa questa transizione scrivete nei commenti se conoscete i software Sibelius ed Orico molto bene molto bene e se soprattutto venite dal mondo finale e se potete consigliare al sottoscritto e a tutti quelli che guarderanno il video una valida alternativa per il momento oggi insomma un giorno di lutto sto dicendo no per amor di dio non sono queste le tragedie della vita però insomma è un momento di grande rivoluzione che comporterà comunque una quantità di studio e di impegno e di spese non indifferente alla prossima ma è un momento è un momento